È iniziata domenica 6 febbraio la novena che porterà la festa della Madonna del Conforto in programma come da tradizione mercoledì 15 febbraio. Tra gli appuntamenti speciali alle 18 le sante messe animate da gruppi diversi. Lunedì tocca alle parrocchie del Valdarno, martedì a quelle di Cortona e Castiglion Fiorentino, mercoledì alle parrocchie del Chianti e del Senese, giovedì 10 febbraio, le parrocchie della Valtiberina. Venerdì sono in programma invece gli interventi dei giovani alla Santa Messa. Il sabato 12 febbraio alle 10 è in programma la messa con i volontari della protezione civile e alle 18 la messa con le parrocchie della Valdichiana e della Caritas parrocchiale con Fraternite di Misericordia, gruppi donatori di sangue, fratres, croce rossa e croce bianca. Domenica 13 febbraio alle 18 è la volta della Santa Messa animata dalle parrocchie di Arezzo, lunedì quella con i monaci benedettini di Camaldoli e le famiglie della diocesi. Da segnalare poi per martedì 15 febbraio le messe che partiranno alle 6 con la messa pontificale delle 10 e 30 presieduta dal cardinare Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei Vescovi e alle 18 la messa stazionale presieduta dall'Arcivescovo Riccardo Fontana.